Lentini, Blitz, l'arresto dei 5 della banda dell'escavatore e altri 3 soggetti sono stati denunciati. L'operazione messa a segno dalla Polizia di Stato, coordinata dalla locale procura della Repubblica di Siracusa, si comprende meglio nella sua portata, allorquando si è acclarato che l'ammontare del denaro asportato dai componenti della banda ammonterebbe a diverse centinaia di migliaia di euro. Rispetto ai 5 soggetti destinatari di altrettanti ordini di custodia cautelare in carcere, altre due persone già detenute per altra causa sono state raggiunte da altrettante misure custodiali e infine altri 3 soggetti sono stati denunciati per avere partecipato ad alcuni colpi della banda. La sequela dei 7 colpi messi a segno e tentati dalla consorteria criminale destinataria delle odierne misure di custodia cautelare in carcere ha avuto inizio il 27 luglio scorso quando la banda tentava un furto con spaccata a una gialleria di Lentini e due giorni dopo tentava la stessa mossa nei confronti dell'ufficio postale di Pedagalgi. L'8 agosto scorso i componenti della banda avrebbero perpetrato una rapina a mare armato in un cantiere di meniglie e nell'occasione sarebbero riusciti a rubare dei mezzi pesanti che avrebbero poi utilizzato per i successivi colpi con spaccata. Il 28 agosto è stato perpetrato un furto con spaccata ai danni di un distributore di benzina di Carlentini che avrebbe fruttato ai criminali 2.750 euro. Il 16 settembre la banda avrebbe consumato un furto presso un supermercato di Francofonte e il 19 ottobre un altro furto con spaccata in due istituti di credito di Vizzini. Infine i produttori atti criminali della banda hanno avuto il loro epilogo nel furto con spaccata ai danni di un istituto bancario di Scordia dove sono state asportate 178 mila euro. Le indagini tutt'ora in atto e successive a certamente processuali faranno piena luce sulle responsabilità degli accusati e destinatari delle misure custodiali.